Buonasera appassionati di calcio e tifosi della Casertana. Inizia una nuova puntata di Zona Rosso Blu, in questa puntata celebriamo l'impresa della Casertana che è riuscita a sbancare il desimone di Siracusa nel primo turno dei play-off, grazie ad un gol nel primo tempo di Giorno e ad un altro nella ripresa di Corrado. Questa sera in studio con noi c'è l'ex allenatore della Casertana Nicola Romaniello, buonasera Nicola e il collega di TuttoCasertana.it Pasquale Gallo. Buonasera. La Casertana ha vissuto delle vicende, ne ho proprio felice, mi riferisco all'esonero di Tedesco e all'allontanamento del direttore generale Materazzi. Buonasera appassionati di voi perché il Siracusa aveva due risultati su tre a propria disposizione, invece ecco l'espoa, questa Casertana umile che continua il proprio cammino tra la sorpresa generale. Sì, diciamo che questa squadra sta continuando a fare bene, magari con la giusta spensieratezza, con la giusta tranquillità, è riuscita a portare a casa un risultato che magari è isperato all'inizio. E quindi sta continuando questo cammino importante, chiaramente partita secca magari c'è la possibilità di tirare fuori un risultato del genere. Adesso è un po' più impegnativa con l'Alessandria su una doppia partita, quindi è un po' più difficile magari cercare di trovare un vantaggio nella partita in casa per cercare poi di controllare la partita fuori casa. Pasquale, gara secca, Casertana, come diceva Nicola, spensierata, non aveva nulla da perdere il proprio campionato, ormai la Casertana l'aveva concluso e anche con onore conquistando appunto la posizione nei playoff, ma pensare di poter vincere a Siracusa era difficile. Eppure la Casertana c'è riuscita, così come dice il Presidente D'Agostino, viviamo alla giornata, lasciateci sognare. Chissà che magari anche l'Alessandria debba preoccuparsi di questa Casertana. Sì, anche nell'ultima conferenza stampa del Presidente, quando lui disse andiamo a fare quest'ultima partita, perché nell'ultima gara in casa anche lui forse non pensava di poter passare il primo turno. Io nel pomeriggio però incominciai a vedere un po' delle altre gare, dei playoff e sorprese ce ne sono state. Quindi poi andando a rivedere, poi in serata anche la partita della Casertana, vai a vedere che, come diceva anche il mister, nella gara secca tutto può avvenire, vedi che il Siracusa sbaglia un gol alla fine del primo tempo, c'è il palo e poi il vantaggio e quindi la squadra in casa si incomincia a preoccupare perché poi devi recuperare e se non ci riesci, vedi, poi arriva il secondo gol, un gol bellissimo di Corrado e quindi poi si spegne tutto. Però questa qua è una cosa che andremo a analizzare anche durante questa trasmissione, perché l'abbiamo detto anche nelle scorse settimane, le squadre più forti che nell'arco della stagione regolare perdono la possibilità di andare in Serie B direttamente, come ci arrivano? Questa è anche la Casertana del mister Romaniello che è campione d'inverno, grandi risultati all'inizio, però poi forse arriva un po' scarica alla fine. Nicolai, come ci è arrivata questa Casertana alla partita, al primo turno dei pre-off? Ricordiamo che ha attraversato un momento molto critico sul finire del campionato, poi c'è stato l'esonero di Tedesco, l'allontanamento di Materazzi, quindi un ambiente un po' turbato da queste vicende. Eppure, ecco, i calciatori non ne hanno risentito, hanno risposto alla grande, forse perché il gruppo è coeso, a prescindere dall'allenatore, perché adesso sulla panchina c'è il giovane Raffaele Esposito, che arrivava dalla Beretta, quindi ha avuto pochissimo tempo per verci lavorare sui calciatori. Ecco, magari il gruppo è andato da solo. Sì, diciamo che all'interno del gruppo, oltre ai veterani, ci sono anche tantissimi giovani che sicuramente avranno grosse motivazioni, sanno che si giocano qualcosa di importante, ma senza, diciamo, molto spensierati, con la massima spensieratezza, perché sanno che è un'impresa difficile, però ci hanno grosse motivazioni e questo può essere un vantaggio per questo gruppo. Pasquale, adesso ci aspetta una doppia sfida, il primo turno dei play-off era partita secca in casa della meglio piazzata, del proprio girone, adesso iniziano gli incroci e con squadre di altri girone, la casettana è toccata l'Alessandra, l'Alessandra che è arrivata prima a pari merito con la Cremonese, ma poi di fatto è seconda per gli scontri diretti e per differenza a Reti, per cui il Camionese l'ho vinto dalla Cremonese. Però l'Alessandra è una squadra di primissima fascia, è stata in testa della classifica per oltre 30 giornate, poi proprio sul più bello ha perso il ritmo, è stato esonerato anche Braille, adesso sulla panchina c'è Pilone. Ecco, si prospetta questa doppia gara, domenica al Pinto, a Caserta, ore 18.30, poi si rigioca e ritorna il mercoledì della settimana successiva. Cosa pensi di questa doppia sfida e come prevedi che possa giocare la casettana sulle due gare? Sicuramente è una gara proibitiva contro una formazione come dicevi tu che nell'altro nel girone A aveva quasi vinto il campionato, per inerzia lo poteva vincere se è fermato sul più bello. Si gioca prima in casa, la casettana deve affrontare questa gara come ha affrontato la trasferta di Siracusa, con grande determinazione, con la voglia giusta, perché in casa la casettana quest'anno raramente ha fatto vedere gare bellissime, però le gare importanti sono sempre arrivate con squadre più forti, con squadre che venivano non a difendersi, ma comunque a fare la partita al Pinto. Quindi l'Alessandria sicuramente non verrà qui a difendersi, verrà a fare la partita, quindi secondo me con la determinazione giusta si potrà anche fare un risultato positivo. Poi se arriva una squadra molto affamata, come è stata quest'anno il Foggia, è più forte, quindi varrà la legge del campo. Nicola, tu hai avuto modo di vedere la casettana qui al Pinto, conoscendo un po' anche qualche calciatore della casettana, perché non dimentichiamo che l'anno scorso eri l'allenatore della casettana. A tuo parere, la posizione che ha conquistato la casettana, cioè il nono posto, al netto dei due punti di penalizzazione, quindi non 49 ma 51 punti, qual è il tuo giudizio complessivo sull'andamento della casettana in campionato? Per me il giudizio è positivissimo, perché comunque è vero che ci sono i veterani che sono da tanti anni qui a Caserta, però comunque è una squadra giovane, ha dei giovani di qualità, ma credo che alla fine abbia fatto un buon campionato. È vero che magari quest'anno la griglia dei playoff è diversa dall'anno scorso, però credo che l'annata sia stata positiva. Pasquale, ci sono state quattro sorprese nel primo turno dei playoff. La Lucchese che vince ad Arezzo, io parlo delle sorprese in quanto erano squadre arrivate dopo in classifica, giocavano fuori casa, dico. Quindi la Lucchese che ha vinto ad Arezzo per 2-1, la Sembani dettesi che ha vinto a Gubbio per 3-2, e l'Albinoleffe che ha vinto a Padova per 3-1 e poi la Casertana, la sorpresa che ci interessa, che ha vinto a Siriacusa per 2-0. Quindi non sempre il fattore campo, magari avere a disposizione due risultati su tre, danno i frutti. Quattro sorprese, insomma, sono tante. Sì, oltre a queste sorprese si stava aggiungendo anche quella della Reggiana, che si è salvata negli ultimi spazi di partita, perché stava rischiando l'esclusione. Il Padova perdeva 2-1 fino ai minuti finali, si è spinto alla fine per cercare il pareggio, che il pareggio valeva la qualificazione, e purtroppo poi si è spinta troppo in avanti e ha subito la terza rete. Sì, non le ho viste tutte, però il discorso è che chi va a giocare fuori casa questa gara secca veramente se la gioca con il coltello tra i denti. E forse chi gioca la gara in casa forse ha troppa consapevolezza, ha troppa sicurezza dei due risultati, e quindi forse nella mente dei calciatori c'è quella sicurezza tale che poi alla fine ti toglie qualcosa. Nicola, per quanto riguarda il nostro gironi, il gironi C, oltre alla Casettana, si è qualificato nel secondo turno il Cosenza che ha battuto per 2-0 la Paganese, e poi Juve Stabbia e Francavilla che in casa hanno impattato per 0-0, ma grazie alla migliore posizione in classifica proseguono il cammino. A tuo parere, adesso, a prescindere dalla gara che la Casettana affonderà nella doppia sfida, c'è Livorno-Francavilla, Juve Stabbia-Riggiana e Matera-Cosenza. Entra in scena anche il Matera. Secondo te quale di queste squadre, appartenendo al Gironi C, hanno possibilità più delle altre di proseguire? Del nostro Gironi sicuramente il Matera può avere una grossa possibilità. Bisogna anche vedere il Francavilla, perché in casa il Francavilla ha un fattore campo importante, perché è un campo molto piccolo, quindi è un campo trappola. Bisogna vedere come va a finire la prima gara. È una gioca con Livorno che è data come tra le favorite alla vettore finale del Playoff. Ma magari non è abituata a quel tipo di sintetico, perché è anche un campo sintetico, piccolo, e parecchie squadre quest'anno sono andate in difficoltà su quel terreno di gioco. Campo di calciotto quasi. Sì, tra l'altro si è lamentato anche il presidente del Fondi nella gara parigiata 0-0, e proprio io non so come la Lega dia la possibilità di giocare al Francavilla su questo tipo di terreno. Mister, ma vista la doppia sfida, come si può affrontare una gara su quel campo? Si può attendere? È un fattore importante, è un fattore che devi valutare. Probabilmente si staranno anche allenando su un terreno sintetico, che poi non è un... sono anni che esiste questo sintetico, non è uno di ultima generazione, quindi è anche messo male come sintetico. I rimbalzi chiaramente sono irregolari rispetto a chi magari è abituato a giocarci e allenarsi tutti i giorni su quel campo. Nicola, tra i calciatori della Casetana, i calciatori della Rosa, che Tedesco ha avuto a disposizione, a tuo parere, quali potrebbero fare al caso della Casetana anche per l'anno prossimo? Quali sono stati, a tuo parere ovviamente, i più bravi in quest'annata? Sicuramente gli over hanno fatto un grosso campionato, parlo di Rainone, D'Alterio, che comunque è in vecchia, ma comunque migliora sempre più. Raicic ha fatto un grosso campionato. Poi ci sono tanti giovani interessanti, Carriero, Giorno, insomma, credo che Bramo, lo stesso Ramos, quest'anno la squadra era un mix di over e giovani molto interessanti. Tu credi che magari sia giusto preparare già il terreno al prossimo allenatore, nel senso che confermare magari l'ossatura di questa squadra e darla al nuovo allenatore o aspettare le direttive del futuro allenatore? Bisogna capire anche l'obiettivo della società, che tipo di campionato si vuole fare. Chiaro che le valutazioni si fanno insieme, però c'è una base da cui partire, che è una buona base. Sicuramente è una buona base se la società è intenzionata a fare stare determinati giocatori, già da quella base, rispetto a formare una squadra nuova, è già importante ripartire da questo punto. Gallo, prossimo allenatore della Casertana, a chi confermeresti di questa rosa per l'anno prossimo? Tutti i nomi, devo fare. Dipende da quanto ne vuoi confermare. Il portiere sicuramente. Il portiere sicuramente poi è da capire quale sarà il nuovo allenatore della Casertana per capire anche con che modulo vuole giocare e mi terrei sicuramente i giovani che hanno fatto bene, come diceva il mister Carriero, Giorno, Ramos e comunque ha richieste che si è giunto all'orecchio anche da due o tre squadre di Serie B, quindi sarà anche difficile trattenerlo. Rai Nune sicuramente, Rai Nune che c'è ancora un altro anno di contratto, però pare che il presidente e comunque lo staff voglia prolungargli questo contratto. il suo procuratore è Mariano Grimaldi, quindi non un osso talmente morbido e quindi sarà un po' complicata questa situazione, però speriamo che questo matrimonio si possa prolungare, perché lo disse anche il direttore qualche settimana fa, io come ho imparato negli anni, la squadra la voglio sempre costruire dalla spina dorsale, quindi sicuramente col portiere, col centrale, con un buon centrocampista e con una punta che possa garantire almeno una doppia cifra a caserta e quindi credo che loro stanno lavorando da questo punto di vista. Poi molto dipenderà anche dall'allenatore e niente, comunque è una rosa quella di quest'anno che ha fatto benissimo e poi c'è da capire che ci sono gli over che hanno un altro anno e sicuramente possono dare ancora tanto in campo ma anche nello spogliatoio, ricordiamo che proprio lo scorso anno al mister furono tolti dal Terio e Raicic che andarono al Martina e forse il mister ce lo potrà spiegare perché poi queste sono cose che si vedono e si notano all'interno dello spogliatoio, non in campo, viene a mancare forse qualcosa, il collante giusto nello spogliatoio togliendo determinati calciatori. Sì, l'anno scorso perché dovevano inserire che determinati giocatori sono stati mandati via quelli che già c'erano e che avevano comunque creato un grosso gruppo, insomma, per me erano giocatori importanti che comunque ho anche spesso utilizzato, poi sono state fatte delle scelte societarie e sono stati presi determinati giocatori, chiaramente si doveva far posto a questi giocatori e purtroppo sono usciti dalla Casertana, nel mercato di gennaio. Nicola, voglio ritornare un attimino su quello che sarà il futuro prossimo della Casertana, ormai si parla di arrivi e partenze, a breve partirà il calcio mercato della Casertana, parlavamo delle conferme, forse è giusto ciò che dicevi, per confermare o meno qualche calciatore bisogna capire qual è il progetto della società e poi magari incontrarsi con l'allenatore perché ovviamente la società non può scegliere a prescindere dall'allenatore, forse probabilmente proprio questo è stato il motivo che ha tenuto ferma la società nel proporre i nuovi contratti ai calciatori perché noi abbiamo saputo che non si è mai parlato di rinnovo quindi calciatori si è aspettato la fine campionato proprio per decidere poi il nuovo allenatore e assieme con l'allenatore mettere un po' a posto i vari tasselli e decidere chi magari fa il caso della Casertana e del nuovo allenatore e chi magari andrà via. Sì, sì, ripeto, la cosa importante è sapere l'obiettivo, cosa si vuole e chiaramente se la programmazione continua ad essere quella di una squadra giovane certamente c'è da tenere in rosa tanti giovani interessanti e perché no anche gli over che comunque hanno fatto bene e comunque possono dare continuità a questo progetto perché comunque ripartire da uno zoccolo nuovo è sempre più difficile che magari tenere determinati giocatori in rosa che conoscono l'ambiente hanno creato già una sorta di gruppo ed è molto più facile per quelli che poi devono arrivare a trovare un ambiente del genere che già è consolidato. Su questo sono d'accordo Pasquale avere già un'ossatura della squadra su cui poi vanno a confluire i nuovi arrivi e non smantellare del tutto quindi io credo che su questo punto stia lavorando anche Anello Martone proprio nel tentativo magari di confermare non so adesso dico dei numeri 10-12 di questa rosa e poi andare sul mercato per prendere i giusti innesti per completarla. Abbiamo visto anche l'anno scorso con la rosa che ci aveva a disposizione il mister all'inizio campionato una rosa giusta non importantissima poi a gennaio si è voluto rivoluzionare tutto è successo quest'anno con la Juve Stabia una Juve Stabia fatta con dei giovani con un progetto abbastanza importante all'improvviso arriva a gennaio si smantella si cerca di prendere il nome si piglia Cutolo si prende a qualche altro giocatore si spendono soldi lo stesso Matute e poi tra piccolette fallisci perché fai peggio del giovane d'andata la stessa cosa sarà all'inizio del campionato se hai già uno zoccolo duro c'hai giocatori importanti che comunque hanno abbracciato Caserta come città ma anche come tifosi come società è giusto tenerli ancora qui per un'altra stagione per diverse stagioni perché vai a cambiare un calciatore però non sai poi cosa ti ti può riuscire e cosa non ti può riuscire mi voglio un attimino rilacciare il discorso Nicola del mercato di riparazione è successo a te l'anno scorso anche a tedesco quest'anno a volte gli innesti non sono proprio quelli giusti intervenire sul mercato dicembre e gennaio non sul mercato riparatore è per rafforzare la squadra o magari allungare la rosa dipende ovviamente dagli obiettivi della società però a volte può essere controproducente magari come è successo alla casertana dell'anno scorso come è stato fatto l'anno scorso insomma è stato un po' deleterio quello che è stato fatto perché comunque sono stati messi troppi giocatori troppi giocatori e renderli partecipi di un progetto in cui c'era un gruppo che già aveva dato tantissimo in quel momento non è stato sicuramente producente per il cammino della squadra Nicola voglio farti una domanda non dico una domanda scomoda però è doverosa Andrea De Nesco era tuo secondo nella tua annata a Caserta l'anno scorso poi è stato tre quattro partite se non sbaglio al capo allenatore quando tu fossi sonegato e poi sei rientrato senza per carità non voglio aggiungere ulteriori polemiche se tu volessi spendere due parole sull'Andrea De Nesco che hai conosciuto te come secondo e su quanto ha dimostrato come capo allenatore quest'anno ma io non posso avere la certezza di come sia come capo allenatore posso dire che quando ha collaborato con me sicuramente mi ha dato una mano sicuramente un ragazzo si è messo a disposizione in tutto non posso conoscerlo dal punto di vista come allenatore responsabile di prima squadra però posso dire che ha fatto comunque un'annata positiva Pasquale tu volevi aggiungere qualche cosa stiamo parlando del calciomercato invernale e volevo rilacciarmi su un calciatore lo scorso anno dopo gli allenamenti il mister parlava dei calciatori e disse Bonifazi è un grande giocatore secondo me farà strada cosa hai pensato quando è arrivato in nazionale e adesso che ha vinto il campionato è andato in Serie A l'anno scorso lo dissi a un amico che sarebbe arrivato non in Serie A gli dissi vado questo ragazzo secondo me arriverà in nazionale dipende perché lui è comunque un ragazzo giovane dipende se riesce a tenere la mentalità giusta perché ha tutte le potenzialità per diventare un giocatore importante a livello insomma di prima squadra di Serie A Nicola sì scusami l'anno scorso sono anche stato criticato per questo giocatore però io intravedevo grosse potenzialità e quest'anno devo dire ha confermato di essere un giovane interessante che può ambire a parcoscenici importanti Nicola a tuo parere un giovane può diventare un calciatore di Serie A perché ha un bravo procuratore perché è bravo tecnicamente perché è bravo mentalmente o c'è bisogno di vari componenti magari sicuramente c'è bisogno di vari componenti ma credo che io le potenzialità di questo ragazzo ce le ho viste tutte a pescine dal procuratore ce le ho viste tutte perché lo vedevo in allenamento tutti i giorni è un giocatore a cui non manca non manca niente sotto l'aspetto fisico atletico tecnico chiaramente poi sono le motivazioni che ti portano anche ad elevare queste caratteristiche però lui come potenzialità può tranquillamente giocare nei parcoscenici importanti e dei giovani che hai visto quest'anno che hanno indossato la casacca rosso-blu chi ti è piaciuto di più o magari pensi che possa avere futuro? ma ce ne sono diversi insomma quelli che ho prima nominato Ramos Giorno Carriero sono degli ottimi giocatori non ti dico non li conosco bene perché Bonifazi lo vedevo tutti i giorni questi ragazzi li ho visti nelle partite però chiaramente ho avuto più occhio per Bonifazi allenandolo e vedendolo giocare avevo più occhio per lui Pasquale Passando da Bonifazi a Michael Micro con te è stato un giocatore quest'anno ne è stato un altro cosa hai notato Michael Micro? Io Michael ha grossa qualità chiaramente purtroppo lui non ha non ha avuto continuità perché aveva un infortunio che non gli permetteva di lavorare bene si fermava ogni 2-3 giorni perché una vecchia cicatrice alla bicipite femolare gli ha causato dei grossi problemi ma abbiamo anche apprezzato le sue qualità quando è stato bene è stato bene abbiamo visto che tipo di giocatore è probabilmente io l'ho curato per quest'anno perché a un certo punto gli dissi guarda tu devi andarti a curare e gli ho detto anche dove si doveva andare a curare e quest'anno le conseguenze si sono viste perché comunque ha avuto maggiore continuità in campo come allenamenti e quindi è tutto diverso Signore mister lui è un giocatore che può far vincere i tornei di Lega Pro quindi di terza serie o può essere protagonista anche in serie B? Potrebbe essere tranquillamente protagonista in serie B però Michael deve sacrificarsi in alcune cose la vita fuori dal campo non nel senso che anche come alimentazione come riposo quella penso che sia importante poi per come a qualità tranquillamente in serie B può fare può fare la differenza anche sui campi di serie B Tornando ai playoff di quest'anno si inizia sabato sabato prossimo Gianna Erminio Portinone Riggiano Ivestabio poi si prosegue con Domenica Francavilla Livorno Lucchesi Albinone F Casettano Alessandria Sambri Tesilecce Cosenza Matera e Piacenza Parma qual è la sfida che ti affascina di più Pasquale? La nostra? No come ha detto qualche allenatore ma anche qualche esperto di calcio questi playoff allargati sono una situazione un po' particolare come se fosse un nuovo campionato quindi al di là delle sfide al di là delle grosse squadre che vediamo in questo elenco però è ancora presto per definire grosse sfide o gare importanti siamo ancora all'inizio quindi cominciamo a vedere la casertana poi man mano cercheremo di capire le vere forze di questo nuovo torneo Nicola domenica prossima inizia anche il mini torneo dei play out in cui impegnata la tua extra squadra Melfi quindi si gioca Melfi Agragas e Catanzaro Vibonesi un tuo pensiero circa la tua extra squadra credo che sul doppio confronto abbia grosse possibilità di salvarsi perché una cosa è la partita secca ma giocarsi due partite la prima in casa la seconda fuori ha grandissime possibilità di salvarsi anche perché comunque la squadra è stata cambiata insomma sono arrivati tantissimi giocatori anche qualcuno che era qui a caserta quindi voglio dire sicuramente possibilità di salvarsi ne ha e dico che come organico il Melfi è superiore ricordiamo che i play out si disponono sul doppia gara quindi domenica prossima Melfi Agragas e Catanzaro Vibonese si replica poi l'altra domenica il 28 quindi a cambi invertiti per determinare la squadra vincente e poi si tiene conto anche della differenza rete delle due gare poi in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione in classifica quindi nel caso del Melfi ad esempio se dovesse esserci un risultato di parità sia all'andata che al ritorno il Melfi sarebbe retrocesso in Serie B Pasquale no un appendice riguardo il Melfi collegandoci non è la serie C collegandoci anche alla serie A la nuova proprietà dell'Inter si ritrova Mazzarri gioca delle gare esonerato va bene e poi comprano 10.000 calciatori a Melfi chiamano il mister una squadra ridimensionata perché bisogna lavorare con i giovani eccetera va via il mister grande mercato arriva una nuova squadra poi cambiano anche l'altro mister poi arriva Dianna mister perché c'è questa filosofia del calcio di con un allenatore fare un certo tipo di discorso poi dopo cambiare tutto e prendere giocatori importanti basti pensare che dopo il mio esone sono arrivati tre giocatori quindi probabilmente ragionatore di questa situazione probabilmente si sono vedute diverse io sono arrivato a lui con con un progetto di giovani che venissero dalla Lega Pro si erano anche individuati i giovani che poi non sono stati presi e qualche over che non è arrivato vuoi perché magari non era appetibile la piazza però insomma dopo le cose sono cambiate è cambiata la settimana dopo che sono andato via sono arrivati i tre giocatori il mercato di gennaio è stato sicuramente un mercato positivo ma la posizione in classifica comunque non non è cambiata io la domanda che mi pongo se una società di serie A di B o di Lega Pro decide di fare gli acquisti importanti perché poi cambia l'allenatore? non lo so tu che stai nel cioè sei stato vittima di questa cosa ma ti ho detto che è successo anche in serie A ma succederà anche negli anni futuri la tua idea qual è? perché succede questo? probabilmente ci sono vedute diverse è arrivato Bitetto dopo di me e non ha fatto bene ma neanche si è pensato di richiamarmi quindi devo pensare che la società aveva vedute diverse dal mio modo di giocare dal mio modo di far giocare la squadra Nicola io vorrei parlare un attimino del tuo futuro io ancora oggi confermo ciò che dicevo qualche anno fa quando abbiamo visto giocare la tua casertana come abbiamo detto l'abbiamo ammirata erano anni che non si vedeva un gioco a caserta e allora uno poi si pone la domanda ecco parlando poi di questo giro di allenatore come è possibile un allenatore come Nicola Ramonelli che ti esprime quel calcio fa giocare in quel modo quella casertana che l'anno scorso insomma poteva anche permettersi di vincere il campionato come è possibile a un certo punto Nicola Ramonelli non trova posto in questa Lega Pro questa domanda me la faccio pure io tutti i giorni non lo so ti manca uno sponsor manca qualcuno no perché è una domanda lecita perché a volte ecco girano sempre gli stessi probabilmente portati da sponsor procuratori è vero girano sempre gli stessi io probabilmente non sono gestito neanche da nessun procuratore forse questa è una pecca l'ho sempre fatto anche da calciatore probabilmente devo iniziare a pensare in maniera diversa quindi perché è strano che un allenatore faccia fatica a trovare una squadra dopo che comunque ha fatto un buon campionato Pasquale vuoi aggiungere qualche cosa su quello che abbiamo detto su Nicola? no no io appena detto hai ricordato il gioco che c'aveva la casertana del mister Romanello ho ricordato diverse gare in casa ma poi ho ricordato anche il Foggia cioè un Foggia che giocava benissimo si andò a Foggia un Foggia che ti ha aggredito già dal primo minuto fino in fondo si perse quella partita però la casertana alla fine cercò e per poco non la pareggiò ci sono due o tre occasioni purtroppo che andarono male quindi una casertana che se la giocava un po' con tutti e al di là del gioco poi perché poi quando in casa ricordo partite bellissime io facevo poco difficoltà perché a me guardavo anche squadre di Serie A e altre squadre estere perché io sinceramente il calcio lo vedo poco perché molte gare non mi appassionano però quell'anno vedendo la casertana mi divertivo molto mi piaceva molto vedere proprio la partita questo è certo ha divertito tantissimi tifosi l'anno scorso la casertana poi l'abbiamo ricordato più volte grande lavoro fatto prima con due giocatori che erano nei processi Capodaglio l'altro aspetta Mangiacasale Mangiacasale sulla fascia Gragnanillo che era nel processo col Savoia e giocatori che poi hanno dato il massimo e quindi divertimento ancora a proposito del Foggia di cui tu parlavi Nicola prima accennavamo proprio di questa squadra che l'anno scorso stavano lì per spaccare il mondo insomma condensarvi sulla panchina con il Mello che ha fatto golla a Iosa e non ha vinto il campionato quest'anno che si pensava che magari il Foggia era ridimensionato nel progetto ecco che il Foggia è promosso in Serie B sì però si è partiti sempre da un gruppo già già compatto perciò dico è importante avere già uno zoccolo duro comunque il Foggia partiva per un obiettivo di vincere il campionato sono stati fatti degli innessi mirati è vero anche che è andato via qualche giocatore importante però voglio dire la linea era quella lì alla lunga anche se in alcuni momenti del campionato ha toppato però è riuscita ad avere poi una continuità di risultati che gli ha permesso di vincere il campionato Pasquale allora seconda fase dei playoff che inizia sabato però noi siamo interessati alla gara di domenica ovviamente a Casettana Alessandria doppia sfida andata e ritorno in caso di parità vale il criterio della differenza reti in caso di ulteriore parità ai quarti accede la squadra meglio classificata in meglio piazzata in classifica quindi in questo caso sarebbe l'Alessandria poi si passerà alla final eight quindi le otto squadre vincenti passeranno ai quarti di finale saranno sempre gare di andata e ritorno però qui entra in ballo poi il supplementare i due tempi supplementari da 15 minuti quindi non vale più il discorso poi per settembre si finisce comunque si finirà a metà giugno poi ovviamente semifinali e sarà una gara unica semifinale e finale gara unica con i tempi supplementari e poi eventuali calci di rigore che saranno disputati all'Artemio Franchi di Firenze a tuo parere chi potrebbe arrivare a questa finale? No ma le squadre l'Alessandria che ha fatto benissimo c'è il Parma c'è il Livorno ci sono tantissime squadre ma città importanti che hanno avuto negli ultimi anni e hanno giocato campionati importanti anche di anche di Serie A quindi con un pubblico con un seguito importante quindi sicuramente questo mini campionato di questi di questi playoff sarà sarà bello da vedere Nicola se tu dovessi indicarci le due squadre che discuteranno la finale di Al-Franco la chiesa è due la chiesa è una la chiesa è solo due le due finaliste secondo me le squadre le più accreditate sono Alessandria e Parma sono squadre importanti squadre che comunque in organico hanno elementi di categoria superiore anche perché avevo dimenticato di dire che alla Final Eight partecipano le otto vincenti della seconda fase poi ci sarà questo tabellone gli accoppiamenti saranno a sorteggio quindi non c'è già la previsione di chi si guarda sarà un sorteggio chissà che no? sarà un'impresa troppo dura per la casettana dici no? Nicola però nel calcio non è impossibile è un'impresa ardua non è impossibile però bisogna crederci è chiaro che gli europei vindi dalla Grecia qualcosa del genere diciamo sì però il calcio mai dire mai mai dire mai il calcio è bello proprio perché ci riserva tante sorprese allora noi siamo in chiusura amici di Zonas Blu vi ricordo quindi l'andata della seconda fase dei playoff Casertana-Alessandria domenica ore 18.30 allo stadio Pinto di Caserta e ritorno mercoledì 24 allo stadio Muccagatta di Alessandria speriamo bene Nicola tu sarai al Pinto domenica? credo di sì Pasquale noi ovviamente ci saremo a seguire ancora una volta la Casertana spero che ci saranno anche tantissimi tifosi perché al di là del risultato al di là del passaggio del turno c'è comunque da stare vicini a questa squadra a questi ragazzi che veramente hanno dato tantissimo è tutto per questa sera un saluto un saluto un ringraziamento da parte di noi di Giornalotto Blu un ringraziamento al nostro Nicola Romaniello allenatore ex allenatore della Casertana un ringraziamento all'amico Pasquale Gallo ciao grazie Raffa è tutto per questa sera alla settimana prossima buonasera a Grazie a tutti